La responsabilità è a monte, c'è stato un errore iniziale quando non si sono rispettati i criteri delle risorse che sono arrivate a Regione Abruzzo, che sono state assegnate alla protezione civile, che doveva individuare degli alloggi in funzione di una criticità importante, quella del 2016, a persone che erano rimaste senza abitazione. I criteri di quel bando non sono stati rispettati, si è cercato di acquistare alloggi definiti palazzini del benessere o quant'altro, oltre al danno mi dispiace che oggi c'è una beffa nei confronti di cittadini che si trovano sia all'interno di stabili ubicati, forse anche nuovi, forse anche innovativi, con una destinazione d'uso ancora da comprendere perché vedendo una tipologia sembrano più degli uffici che degli appartamenti. Quindi la riconversione di queste strutture oggi crea un danno alle persone che vivono all'interno perché hanno dei costi talmente importanti che sono insostenibili. È impensabile avere all'interno delle persone con pensioni con la media di 700 euro e bollette che superano le centinaia di euro al mese, costi di condominio pazzeschi, impianti che non sappiamo se sono certificati a norma, luce accese H24, una domotica che dicono che non è in grado praticamente chi è all'interno per età di gestire, ma se davvero fosse così, ma noi sappiamo che invece non funziona, che non funzionano realmente perché ci sono persone che nel periodo invernale sono costrette a utilizzare le stufette perché non hanno gli impianti di riscaldamento conformi, ci sono persone che nel periodo estivo hanno difficoltà e sono costrette a stare fuori dagli alloggi perché gli impianti di alimentazione non funzionano. Tutto questo non deve coinvolgere chi vive all'interno di queste abitazioni, ma deve coinvolgere le istituzioni. La presenza oggi qui del sindaco e dell'assessore certifica un percorso, una trattativa, l'assenza invece dell'Ater ci preoccupa, perché vuol dire che da una parte cercano di comunicare soluzioni che non hanno dato le persone qui presenti, dall'altra invece continuano le criticità, continuano quelle che sono le problematiche a carico dei condomini con un Ater completamente assente, una regione che a una mia interrogazione fatta poche settimane fa, pochi mesi fa, ci ha risposto che tutto è in ordine, tutto è a posto. I problemi di via Balzarini restano, anzi si sono accentuati in relazione alla situazione che vivono queste famiglie. C'è un dialogo con Ater, nel corso di questi mesi abbiamo convocato più tavoli alla presenza del consigliere regionale Taglieri, che ringrazio perché questa battaglia, l'attuale assessore Ciammariconi, in realtà è una battaglia che il Movimento 5 Stelle ha messo in campo e avviato già da diversi mesi e che oggi sta portando avanti non solo a livello comunale, ma anche e soprattutto grazie al lavoro del consigliere Taglieri a livello regionale, perché la questione, la problematica è una problematica di livello regionale, perché la regia è ovviamente su quel piano, su quel livello e quindi occorre dare delle indicazioni. Quello che noi chiediamo, cercando di riscontrare le richieste dei tanti cittadini, e che ci sia certezza, chiarezza sui conti, su quello che sono chiamati a dover pagare, oltre al sé, devono effettuare tutta una serie di pagamenti e caricarsi tutta una serie di costi, perché parliamo di cifre assolutamente esagerate e soprattutto non c'è, considerata anche la tipologia di struttura, la chiarezza su che tipo di distribuzione dei costi grava in capo al singolo cittadino. I cittadini si trovano in una condizione in cui vengono chiesti a loro dei pagamenti senza che ci sia però alcuna certezza sull'effettivo legame tra il costo, il pagamento richiesto e l'effettiva utenza sostenuta e l'effettivo dovere di effettuare questi pagamenti.